Oggi andiamo a vedere il capitolo numero 2 che si intitola normale terapia regressiva. La gente non comprende il potere di autogorrigione della loro mente. Attraverso la mia tecnica hanno accesso a quella parte della loro mente che può trovare la causa dei loro problemi. Il subconscio può essere molto letterale a riguardo dei sintomi fisici che usa per condividere i suoi messaggi. Se più persone fossero consapevoli di questo fenomeno, darebbero maggiore attenzione a ciò che il loro corpo sta cercando di dirgli. Grazie alle migliaia di sedute da me condotte finora, di solito riesco ad identificare una sequenza o ciclo ripetitivo di sintomi che identificano l'origine dei problemi del paziente agli eventi della loro vita attuale. Per esempio, se qualcuno dichiara di aver dolori persistenti alle spalle o alla schiena, chiedo sempre se si stanno trascinando un grosso fardello nella loro vita quotidiana. Invariabilmente mi rispondono di sentirsi così a causa della loro vita familiare, l'ambiente lavorativo, eccetera, e si sentono molto sotto pressione. Questa condizione emotiva si manifesta fisiologicamente nella forma di disagio sulla schiena o alle spalle. Dolore ai polsi e alle mani può significare che nella loro vita sono attaccati a qualcosa che devono lasciare andare. Dolore ai fianchi, gambe e piedi significa che si trovano in una situazione dove possono scegliere di prendere una diversa direzione nella loro vita. Di solito ha a che fare con una decisione che potrebbe drasticamente cambiare la loro vita. Si manifesta come disagio in quella parte del corpo perché il subconscio gli sta dicendo che hanno paura di cambiare, di fare il passo successivo, e quindi il dolore li trattiene fisicamente. Problemi allo stomaco sono solitamente causati dall'incapacità dell'individuo di digerire qualcosa che sta avendo luogo nella loro vita. Il cancro, specialmente agli intestini, è una forma di ritenzione interna che causa stress e danneggia gli organi che non riescono a rilassarsi. Epilessia può essere una forma di incapacità di gestire o elaborare grosse quantità di energia presenti nel fisico. Ho avuto clienti che soffocavano con l'assunzione di specifici alimenti o medicinali. In quei casi il subconscio diceva che non avevano bisogno di assumere quei medicinali perché avrebbero causato ulteriori problemi al corpo. Il riflusso che causava il soffocamento è una forma di rigetto per evitare l'assunzione di quei cibi o medicinali. Questo dimostra come il subconscio può a volte diventare drammatico e autoritario. Mentre alcune delle risposte si possono trovare nelle circostanze quotidiane, la maggior parte del mio lavoro è concentrata sulle vite passate. Presenterò qui alcune regressioni normali per dimostrare come usarle al fine di riconoscere le soluzioni ai problemi che il paziente soffre nella vita odierna. Il resto del libro è focalizzato su regressioni eccezionali fuori dal comune e come il cliente abbia beneficiato di queste informazioni. Dobbiamo ricordare che queste esplorazioni non si possono applicare direttamente a tutti i casi né concepirle come l'unica causa dei sintomi o della malattia. Non utilizzeremo mai nessuna definizione sommare di questo tipo. L'obesità è causata da puntini puntini o le emicrania provengono sempre da puntini puntini. Le spiegazioni sono tanto varie quanto l'individuo e il subconscio è estremamente intelligente nel gestire ogni situazione. L'ipnoterapeuta deve essere flessibile e usare l'istinto per fare le domande più adatte. La risposta e la soluzione per un cliente può essere diversa per il cliente successivo. Ecco un esempio dei problemi che le vite passate possono avere sul corpo nella vita attuale. Molti casi di artrite provenivano dall'essere sottoposti al tavolo di tortura in prigioni sottoranee durante il Medioevo. Gli omini hanno dei precedenti di condotta pessimi e questo ce lo portiamo dentro nella memoria fisiologica. Ricevetti è una spiegazione molto interessante per i fibromi tumorali uterini. La paziente aveva subito molti più aborti. Aveva una ragione comprensibile visto che all'epoca aveva già molti figli. Faceva molto fatica a lavorare e ad allevarli allo stesso tempo. Non si sentiva in grado di avere altri figli in quelle circostanze. Disse che l'aborto non la disturbava, tuttavia il suo corpo e il subconscio avevano un'altra opinione. Iniziò ad avere problemi di fibroide tumorali durante la seduta al subconscio di sé e aveva accumulato più rimorso di quanto non credesse e che quei tumori rappresentavano i nascituri perduti. Dopo esser venuta a pati con il rimorso, i tumori iniziarono a restringersi e sparirono senza il bisogno di un intervento. Malattie sessuali come herpes, esterectomia, cestiti, suova e prostata sono tracciabili ad abusi o eccessi da parte del sesso opposto durante altre vite. Questo si può anche interpretare come un metodo per allontanare il sesso opposto, una forma di autopunizione. Una cliente aveva endometriosi e problemi genitali con ripercursione sulla sua schiena. Non aveva avuto figli anche se era sposata da 19 anni e il suo dottore voleva operarla per rimuovere le uova e le tube al fine di eliminare il disagio sessuale. Le sue vite passate rivellarono che i problemi ai genitali femminili a volte possono sorgere da diversi cicli di vite vissute come preti o suore che dovevano osservare la castità, causando la soppressione o repressione di stimoli e attività sessuali. Voti espressi in altre vite possono avere una forte influenza, specialmente i voti di povertà spesso possono trascinare nella vita presente e causare problemi di denaro. Questi devono essere riconosciuti come una necessità nella vita precedente, ma ora si può rinunciare perché inefficienti. A volte un individuo ha vissuto molte vite con lo stesso sesso e improvvisamente si trova nel corpo del sesso opposto. Finiscono col sviluppare malattie o problemi come forma di rigetto del corpo, specialmente gli organi che hanno a che fare con gli ormoni. Ritengono che questa sia una spiegazione per l'omosessualità. Tutte quelle vite dello stesso sesso creano attaccamento e difficoltà d'adattamento in un corpo del sesso opposto. Ho avuto moltissimi pazienti che soffrivano di emicrania, che si possono spesso tracciare a vite passate in cui hanno sofferto un qualche trauma cranico. Colpi alla testa da parte di armi, animali o umani creano tracce nemoniche che ricordano all'individuo di non ripetere nella vita presente errori che possono averli portati alla morte in una vita passata. Un caso era quello di una giovane donna che rivisse la vita di un giovane soldato morto durante la guerra civile americana con un proiettile alla testa. Un altro caso in Inghilterra era quella di una donna che aveva sofferto di emicrania per tutta la vita. Il dolore aveva origine dal naso, si estendeva verso la fronte e si espandeva a tutto il resto della testa. Nessun medicinale le dava alcun sollievo. Abbiamo trovato la causa di un colpo di spada ricevuto esattamente in quel punto, durante una delle numerose guerre combattute nei secoli in Europa. Specialmente comprendere l'origine fu abbastanza per eliminare il dolore fisico. Un altro caso di emicrania invece prese una piega diversa. Il cliente era un agente di viaggio e come tale era in grado di viaggiare in tutto il mondo. I suoi mal di testa ebbero inizio dopo essere tornato da un viaggio in Indonesia. Fu una vacanza molto rilassante e si era sentito come fosse a casa. Così non fu in grado di correllare la vacanza con il dolore, anche perché nulla dispiacevole o traumatico ebbe luogo. Durante la regressione ritornò ad una vita ediliaca in quella parte del pianeta con una famiglia meravigliosa e un uomo che l'amava moltissimo. Il subconscio spiegò che le memorie di quella vita meravigliosa si reaccesero al suo arrivo ed era turbata di doversene andare ancora una volta. Questo diede origine al mal di testa. Desiderava tornare nel luogo dove aveva vissuto così felicemente. Il mio lavoro fu di convincere l'altra personalità che se fosse tornata a vivere in quei luoghi nulla sarebbe più lo stesso, perché le persone che amava non c'erano più e le circostanze erano cambiate. Non sarebbe stato in grado di riconquistare quella felicità, ma doveva trovarla nel momento presente. Forse con quelle stesse persone, visto che spesso finiamo con rincarnarci con le stesse persone che amiamo. Dopo questo chiarimento, il mal di testa scomparvero immediatamente e non tornarono più. Ci sono molte spiegazioni per l'eccesso di peso e l'obesità. Alcune sono facilmente prevedibili. L'individuo morì di fame in un'altra vita o causò ad altri di morire di fame. A volte l'eccedenza di peso è una forma di protezione. Il soggetto aumenta l'imbottitura per proteggersi da qualcosa di attuale o percepito, o nel tentativo di diventare meno attraente al fine di eliminare il rischio di essere ferito. Il mio lavoro qui è di scoprire da cosa stanno cercando di proteggersi. Spesso il cliente è l'ultimo a comprendere queste cause. Tuttavia, quando vengono spiegate sotto imnosi, il cliente comprende e riesce a recuperare. Ci sono stati alcuni casi di obesità con cause eccezionali. Una donna tornò ad una vita dove era leader di un clan in Scozia. Il loro ruolo era impegnativo e sentiva il peso delle molte responsabilità. Alla morte, l'uomo, ancora schiacciato da queste responsabilità, lasciò trapellare un importante indizio quando disse «Non mi libererò mai di queste responsabilità». Parole importanti che il subconscio prese seriamente e trasmigrò alla vita presente. Un caso inusuale è descritto in Legacy from the Stars, eredità stellare. Qui un cliente vide se stesso come un alieno schiantandosi sulla terra a causa di un incidente e curato dai nativi del luogo. Aveva molte incoinsuete abilità che attraevano l'attenzione. Una di queste era la capacità di fluttuare inaspettatamente causata dalla differenza nella gravità terrestre. Anche se non aveva molto senso, questo creò il desiderio di aumentare di peso per evitare di attrare attenzione a causa di questi venti sporadici. Un'altra spiegazione inusuale all'obesità si presentò quando Rick, un cliente, cercò il mio aiuto per questo problema. Nulla sembrava funzionare, specialmente diete speciali che le imponevano di mangiare un cibo specifico ad esclusione di altri. Durante la regressione andò direttamente a una vita in qualche tipo di civilizzazione antica. La descrizione delle abitazioni e delle costruzioni non si avvicinava a nulla di cui avessi mai letto prima. Alcune delle sue descrizioni mi ricordavano gli Astechi, specialmente le ultime scoperte archeologiche. C'era un cortile rettangolare circondato da strane strutture utilizzate come panchine simili a gratinate. Un'atleta di ogni comunità partecipava al gioco. Rick era uno dei atleti che allenavano per questo gioco. Questo gioco era molto importante perché decideva chi sarebbe stato il leader tra le due comunità fino alla stagione successiva. Ogni stagione il leader cambiava a secondo del vincitore del gioco. Rick aveva una strana uniforme e il suo volto era coperto da strisce di colore. Il gioco sembrava simile al basket. Correvano nel cortile con una pala e dovevano farla passare attraverso un cerchio di pietra montato al lato del cortile. Ecco perché ho pensato agli Astechi. Perché gli archeologi dichiararono di aver scoperto un campo da gioco in Messico dove gli Astechi giocavano a pala. Tuttavia dichiararono che si giocava con una testa umana che doveva passare attraverso il cerchio di pietra. Se questo è lo stesso gioco, può essere che nel tempo sia deteriorato all'uso di teste umane. Può essere che gli archeologi ci sono sbagliati. Rick era un atleta eccellente e vinceva consecutivamente. Di conseguenza la sua comunità determinò il leader per molte, molte stagioni. Non gli piaceva lavorare così duramente e spesso preferiva che fosse il leader stesse a giocare per la loro vittoria. Non gli era permesso sposarsi. Egli avevano imposto una dieta molto limitata che lo mantenevano in una forma fisica perfetta. Era invidioso degli altri perché potevano socializzare e mangiare ciò che volevano. La sua dieta consisteva di carne di tartaruga, una qualche radice bianca, fiumi d'acqua e un liquido amaro bianco estratto da una pianta carnosa. Doveva bere questo liquido ogni mattina e ogni sera. Lo rendeva un po' assonnato ma era essenziale perché manteneva i suoi muscoli tonici. Ne odiava il sapore al quale non si era mai abituato. Alla fine si stufò di giocare e cercò un modo di uscire. La gente lo amava ma si stava annoiando delle sue costanti vittorie. Alle altre comunità non piaceva perché non avevano la possibilità di regnare. Aveva deciso di perdere ma non poteva essere troppo ovvio. Quando iniziò a perdere decisero di rimpiazzarlo. A quel punto gli permissero di vivere una vita normale, inclusa la dieta. Decise di andare a vivere con la comunità opposta perché finalmente erano entusiasti di avere la possibilità di regnare. Così notò che i loro atleti non avevano una dieta ristretta ma mangiavano ciò che volevano. Era felice là ma morì da lì a poco. Mentre stava morendo si sentiva gli intestini bruciare. Lo sciamano disse che era il risultato del liquido bianco che era stato forzato a bere per tutti quegli anni. Aveva danneggiato il suo organismo. Dopo aver parlato al subconscio la connessione tra quella vita e i suoi problemi di peso divenne pallese. Il subconscio disse che quel liquido era una droga. Un narcotico che provocava un aumento dell'attività cardiaca così come un aumento dell'attività metabolica al fine di migliorare la muscolatura e aumentare la sua velocità. Ma lì procurò delle ulcere intestinali e questo è ciò che lo uccise. Quando chiesi aiuto al subconscio per i suoi problemi di sovrappeso disse che non sarebbe stato semplice. C'erano molte variabili in gioco ed erano tutte intrecciate. A causa dell'autorità, il leader, che lo forzò a fare qualcosa che non era nel suo interesse, aveva imparato ad essere sospettoso e non di fidare delle autorità, governo, chiesa, dottore, eccetera. Inoltre la nutrizione era associata al piacere e all'intrattenimento sociale. Sarebbe stato difficile separare tutte queste componenti. Inoltre, tra in buona salute, il subconscio non riteneva ce ne fosse bisogno. Era ovvio perché Rick non riuscisse ad adattarsi a diete restrittive che lo limitavano a mangiare solo un tipo di cibo. Era una rara tipologia di obesità difficile da gestire. Quando Rick uscì dalla trance non ricordava nulla, ma iniziò a bere acqua perché aveva un saporaccio amaro in bocca. Disse che li ricordava di un tempo quando da bambino andava a esplorare i boschi con i suoi amici e dopo aver trovato una pianta grassa l'assaggiarono. Ero meravigliata. Molte piante nel bosco sono velenosi. Era amara. Allora lì disse del liquido bianco che aveva bevuto per anni in quella vita passata. Questo sapore era tornato a gala e dopo qualche bicchiere d'acqua era a posto. In molti casi di asma ho trovato una connessione a vite passate dove il soggetto moriva di soffocamento, qualche problema con i polmoni e la respirazione, tipo problemi ambientali, polvere, sabbia, eccetera. Uno di questi casi ebbe luogo nei primi anni della mia pratica. Un dottore che aveva attacchi d'asma da vent'anni venne a vedermi. Usava un innalatore ma sapeva che era una dipendenza così che stava cercando un'alternativa. Ne sapevo abbastanza di paranormale e metafisica per dedurre che la risposta doveva essere nel suo passato. Tornò a una vita dove viveva in una giungla in Africa. Questo era il periodo in cui i francesi stavano minando l'asbesto nel sottosuolo. Catturavano gli indigeni e li portavano nelle miniere per lavorare come schiavi. Era uno di questi schiavi e la costante esposizione alle fibre dell'asbesto dovuta alle procedure di scavo creavano sintomi fisici agli indigeni, come sanguinare dalla bocca a causa dei danni polmonari. Questo causava problemi respiratori che portavano alla morte. Quando questo accadeva i francesi li scaricavano nella giungla e ne catturavano altri. Lui iniziò ad avere sintomi dell'intossicazione e sapeva che sarebbe morto di irritazione polmonare. Nella sua cultura non era sbagliato commettere suicidio se si era in una condizione insospettabile. Così si piantò un palletto nella spalla destra e morì. Dopo aver comunicato col subconscio divenne chiaro che la memoria di quella vita era trasmigrata e durante periodi di stress il problema respiratorio sarebbe ritornato nella forma di attacchi d'asma. Ora che il dottore comprendeva da dove aveva origine il problema, lo poteva eliminare. Dopo essere uscito dalla trans di sé, mi sono sempre chiesto perché ho dei dolori qui. Stava massaggiando l'esatta posizione dove si era piantato il palletto. Successivamente questo dottore divenne un buon amico e circa 4 anni o 5 dopo gli chiesi dell'asma, sorrisi e disse Ah giusto, avevo l'asma no? Allora io oggi mi fermerei qui, domani partiamo da qui. Grazie mille e a domani, ciao!